Sono Mariela Gallina, sono docenta di economia aziendale all'ETC Crispi e mi occupo di alternanza scuola-lavoro. Ho visto tanti altri convegni e cose varie, però questo è stato quello che ha dato più, perché è molto più professionale e quindi ti fa capire realmente che cosa sono. Non abbiamo mai fatto alternanza con l'estero e quindi ci proponiamo di fare questa alternanza anche con l'estero, sperando che tutto vada bene e che possiamo contattarvi anche in seguito.